Buongiorno, vediamo le previsioni del tempo iniziando con il leggere le temperature minime registrate in alcune città italiane ed estere, le italiane. Aosta non pervenuta, Cuneo 16, Bolzano 13, Trieste 22, Venezia 20, Milano 19, Torino 18, Genova 23, Imperia 21, Bologna 19, Firenze 18, Ancone 20, Perugia 16, L'Aquila 11, Pescara 18, Roma 19, Campobasso 15, Bari 19, Napoli 21, Potenza 15, Taranto non pervenuta, Reggio Calabria 23, Palermo 24, Cagliari 21. Minime all'estero, Stoccolma 11, Mosca 12, Berlino 15, Varsavia 12, Londra 18, Bruxelles 12, Parigi 14, Ginevra 16, Vienna 14, Belgrado 17, Malta 23, Atene 24, Madrid 20, Istanbul 19, Bucarest 14, Tunisi 24. La situazione. Il versante orientale della penisola rimane interessato da diffuse condizioni di instabilità, mentre il minimo depressionario sullo Ionio tende a colmarsi parzialmente trasferendosi verso Levante. Un sistema frontale sull'adriatico centro settentrionale si muove verso sud-est, tempo previsto fino alla mezzanotte di oggi. Sulle regioni orientali sul versante Ionico, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più estesi ed intensi su Puglia e su zone montuose in genere, accompagnati da locali precipitazioni per lo più temporalesche. Sul resto d'Italia, la nuvolosità variabile con ampie schiarite più probabili lungo la fascia costiera, alternate a temporani annuvolamenti pomeridiani sui rilievi interni, dove potranno risultare associati a brevi rovesci e temporali. Tendenza dalla serata a nuovo e graduale aumento della nuvolosità sul settentrione. Temperatura in lieve diminuzione specie sulle regioni orientali, i venti ovunque moderati settentrionali, da nord-ovest sulle regioni di Ponente, da nord-est su quelle orientali, con rinforzi sul Triveneto e nelle zone temporalesche. Mari mossi i bacini meridionali, localmente mosso l'alto adriatico, poco mossi gli altri mari. È tutto, arrivederci. Meteo 1, con la partecipazione di Grana Padano.